Salve a tutti messeri, benvenuti su The Zion Theory, io sono Spazio. Oggi è un video un po' speciale, un po' particolare, diverso dal solito, perché oggi voglio celebrare, fra virgolette, voglio parlare di questo primo anno passato su YouTube. Un progetto che è iniziato proprio un anno fa, più o meno, non so se proprio in questo giorno preciso, comunque ci siamo molto vicini. Un progetto che all'inizio, insomma, non aveva un'identità precisa. Io mi sono buttato qui sulla piattaforma con l'idea di fare qualcosa, di iniziare a fare qualcosa, di proporre dei contenuti. Inizialmente il progetto era un po' diverso e poi si è incanalato verso, appunto, i film, serie TV. Ha preso un'identità più precisa da questo punto di vista, però sicuramente c'è ancora molto da lavorare. Diciamo che questo è stato un anno un po' di transizione, un anno per capire un po' quelle che erano le dinamiche di tutta la piattaforma, di YouTube, di come si facevano dei contenuti, di come si creano dei contenuti, anche a livello di attrezzatura e tutto quello che circonda questo genere di cose, questo genere di situazioni. C'è ancora molto da imparare, ovviamente, c'è ancora molto da migliorare, sicuramente. Ho avuto anche delle problematiche poi nel corso di questi mesi, a causa di alcune strampalate politiche della piattaforma che mi hanno un po' costretto a rallentare anche un po' per timore, diciamo, anzi, ho dovuto rallentare un po' il ritmo di quelli che erano i contenuti sui quali avevamo preso anche un buon ritmo e mi auguro, ovviamente, perché poi questo è un video sì per parlare un po' di quest'anno, una sorta di piccolo bilancio, insomma, niente di più, anche perché il canale è molto piccolo e molto giovane. Però ecco, anche parlare di quelli che saranno i contenuti qui di The Zion Theory, insomma, vorrei cercare di, ecco, di dare ancora di più un'identità ancora più definita al canale, vorrei concentrarmi magari maggiormente sul mondo di serie tv, film e anche, non solo questo, magari anche buttarmi un po' su libri, fumetti dai quali sono stati tratti, no, film, serie tv, quindi anche concentrarmi su quell'aspetto, su quel mondo, il mondo letterario, no, fumettistico, magari cercare di proporre qualcosa da questo punto di vista. Per quanto riguarda lo sport, sicuramente continuerò a trattarlo, magari con degli argomenti più specifici, con qualcosa di più particolare, però sicuramente verrà trattato ancora sul canale e spero, ovviamente, poi, e questo però ne parleremo in seguito, quando anche farà meno caldo, perché con questo caldo, ragazzi, comunque anche stare a registrare, creare video, non è facile, insomma, si suda, poi io particolarmente soffro, patisco il clima, patisco il clima caldo, quindi, però, ecco, mi piacerebbe riportare tre contenuti a settimana qui sul canale e poi un'altra cosa, insomma, sicuramente fra un paio di mesi circa aprirò, mi piacerebbe aprire anche un altro canale, nel quale vorrei trattare un'altra mia grande passione, che è quella dei videogiochi, quella inerente al mondo videoludico e quindi concentrarmi anche lì su un mondo, su un qualcosa a cui sono molto legato, con sicuramente gameplay, notizie, recensioni, insomma, opinioni riguardo ai videogiochi, ecco, è una cosa alla quale tengo particolarmente, è una cosa a cui avevo pensato anche l'anno scorso, quando sono partito con questo progetto, ma come ho detto all'inizio video, The Zion Theory era partito anche per sperimentare, per andare un po' all'avventura e vedere un po' cosa succedeva qui su YouTube, come ci si poteva muovere all'interno di questa piattaforma, per cui, insomma, sono soddisfatto sicuramente perché ho cercato di dare una certa continuità e non è mai facile cercare di dare continuità a un progetto che comunque a livello economico, specie nei primissimi tempi, ovviamente, non ti dà nulla in cambio e quindi di questo sono sicuramente soddisfatto, come ho detto c'è ancora molto da migliorare sotto tanti punti di vista, ma sono pronto a farlo, sentendo naturalmente anche qualche vostro consiglio a riguardo, mi piacerebbe molto, come sempre, sapere la vostra opinione, anche perché senza di voi, insomma, senza una community comunque più o meno ricca, questo genere di progetti alla lunga è difficile, no? Cercare di portarli avanti. Comunque, ecco, mi piacerebbe nel prossimo futuro, prossime settimane, insomma, riuscire a dare un'idea ancora più precisa, a dare un'identità, come ho detto, più definita al canale. Sicuramente quando passerà questo caldo sarà più facile attuare questi cambiamenti e anche, ecco, questa idea, diciamo, da qui a un paio di mesi circa di aprire questo secondo canale. Insomma, ragazzi, questo era un video per fare una sorta di recap, no? Ricapitolare un po' quello che è successo, quello che ci aspetta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi su The Zion Theory e per quanto riguarda anche altri miei progetti qui su YouTube. E quindi, ecco, questo era un video diverso, dal solito diverso da tutti gli altri. E niente, poi noi naturalmente ci rivedremo nei prossimi video con i soliti contenuti a tema film, serie TV, sport e quant'altro. Detto ciò, ragazzi, io come sempre vi ricordo prima di salutarvi, di iscrivervi al canale, naturalmente, di lasciare un mi piace qua sotto qualora il contenuto sia stato di vostro gradimento, di seguirmi sulla pagina Facebook e soprattutto su quella Instagram. Anche per oggi è tutto, questo breve video, insomma, si conclude qui. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Spazio. Grazie.